buongiorno da auto accessori fratelli puiglia e oggi vi presentiamo il nuovo prodotto appena arrivato della cresci rimorchi il prodotto in questione si tratta di un rimorchio che è basculante e c'ha il coperchio basculante perché rimuovendo questa vite andiamo allentare tenendo l'altra parte questo rimorchio bascula il modello si chiama a 6 bf e ha una portata utile di 750 kg questo rimorchio si presenta con delle ruote 500 10 rinforzata il cliente ha voluto la ruota di scorta perché questo rimorchio già è predisposto per il fissaggio il supporto ruota di scorta il rimorchio si presenta con una sponda apribile verso il basso per avere un accesso molto comodo ed eventualmente si può sfilare andando verso destra ed ha un bel carico c'è il coperchio con l'aiuto delle molle a gas per facilitare l'apertura ed è molto versatile ha una capienza di due metri per un metro e 42 largo al sistema frenante nella parte anteriore la rotellina d'ausilio negli spostamenti e si presenta come lo vedete trovate questo rimorchio e tanti altri da autoaccessori puglia a sala consiglina oppure sul nostro sito www autoaccessori puglia.com